ciao a tutti ragazzi da tfg on demand sidra le hanno donato 6 arcieri io chiedo robe a casa mi danno gli arcieri io speravo in una spacca muro in niente ma vedo degli accampamenti le truppe laviche che lei ha potenziato siccome sapevano che i miei mastini adesso sono 3 sapevano benissimo che prima o poi sarebbe arrivato un attacco allora ragazzi visto che rinegan come sempre vi ha ascoltato arriviamo almeno a 6.000 mi piace per 6.000 7.000 mi piace 8.000 ti ricorda che in quell'altro video mi sembra che 10.000 sono arrivati si allora facciamo così credit bla no no tuck 1.500 euro il proprio sto barbara io pensavo che la pennetta funzionasse hai detto che la compri ma non si ha pratica dei pad lo compri un riccolo di merda non hai saluto compro le spade laser da 600e ma non compro ma quando tu hai comprato la carta Secondo loro io ho comprato le spade laser Non è che secondo loro Io con la tua carta ho comprato le spade laser Ci arrivano fra due giorni Questo non lo sapevo Comunque ragazzi 1200 euro di spade laser Ma lei ha già fatto un attacco con la furia dei mastini Esattamente 22 minuti fa Allora Oh veramente Cliccare mi piace solo per la master Io mi alleno Io adesso guardate come mi alleno Cioè taci bifolco E guarda Osserva la magnificenza Va bene Adesso offriremo la magnificenza Guarda Che cosa è Qui ho sbagliato No ho sbagliato ma facendo giusto Cioè ha messo una veleno Su una Perché io sapevo che c'erano i maghi Perché a me non ha messo la veleno sui maghi Troppo da sfigare Ah però aspettate Così i maghi vedi saltano e muoiono Eh? Non è vero che sono morti Sono asservati e sono morti alcuni 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 Ma ancora alcuni sono vivi Quindi come risolve la situazione? Re Rinnegan Pensano così Ah ci pensano i Gli schifanzini Gli scherrini lavici Esatto Io vedi non butto la Perché volevo che almeno due esplodessero Cioè ma qua lei pensava di vincere Di fare il 100% Io ero sicuro di fare il 100% Anche quando ha visto i maghi uscire Dopo aver buttato via la veleno Ho detto meglio Così riesco a far Beglio Non meglio Beglio Ho detto meglio Così riesco a far Morire almeno un paio di Lava Ah lava Loni Esatto E farle le cacatine Farle le cacatine Ma c'è quello mago lì E buono adesso guarda cosa c'è da quel mago E' morto E lei perché ha buttato una fulmina Cosa c'era? Sul mago Ah sul mago e sugli arcieri Esatto Mi stavano rompendo le tappi Ma lei mica è stupido Lei sa? Io sono un grea Lei sembra che Guarda le scorgine Cioè io penso che tutti quelli che hanno visto il video Adesso hanno detto Ah che sfigato Ho sicuramente perso No invece l'ho fatto apposto Boh ma era un bilancio di merda ragazzi No a parte che ho visto le prequenarvische Per il 100% Però io appena ho visto Un bilancio di merda così Neanche lui riesce a fare Non riesce a fare il 100% No Con i mastini e basta no Io non sono così bravo Giù il municipio Chiaro Giù il municipio Ma c'è quel volano che proprio rompe le strapalle Ma però Non si dice Però Ma però è più bello Ma però Non si dice Si dice però Però Ci sono i miei reali che stanno regaleggiandamente regaleggiando E deve ancora furieggiare vedo Ma furieggio alla fine Ma proprio la cazzo La cazzo di cane La cazzissimo di cane Lo sai che Vivici sulla nostra pagina Facebook La trovate in descrizione per chi non lo sapesse E ci mandano le foto con scritto Qui ho furieggiato alla media I villaggi schifosi E si dicono Il Sire sarebbe fiero di me Ho attaccato questo villaggio Io piango di gioia Quando vedete i villaggi che mi date voi ragazzi Quindi ragazzi è un bel 100% so c'è Adesso però Andi arcieri Oh degli arcieri Un sacco di arcieri Adesso però voglio vedere un attacco in live Grazie 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 Sono Mastini Versus TH9 Si va la grande Maxatissimo Si va la grande No non è maxato Come no Non so se dividere i due gruppi Fare tre Allora io butterei il reale intanto sulla difesa aerea Intanto Così La difesa aerea va giù E la butto sulla cos'è Zitto Allora adesso praticamente E dopo butto i Mastini Ma di qua o di là Ma no Dove non c'è più la difesa aerea Ma lo stesso arrivano fin là Ah se giusto è vero E butterei sulla difesa aerea BAM 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 Peggio l'ignorante Come se due sono le altre difesa aerea Sire No se ne sono solo due Cioè come a questo un TH9 Ha solo due difesa aerea Ben chiaro È un po' gemmato No È un po' gemmato Comunque non è Mi dicono Non è maxato Come no Come no Sì Ha le miniere maxate Tutte Ora lì Anche i depositi Ah ecco dove era Ah eccola Era l'altra Eh Cosa Cosa Sì Fulmina Fa quando Boh Comunque vedete Che ha il Cioè non ha solo Ha neanche i depositi Già gli al massimo Guarda Non tutti i depositi Guarda guarda come arrivano in filo Gli arcieri Guarda che belli Si mettono tutti sullo stesso punto Così basta una palla di montaio Esatto Ma il montaio lo venisse Botteggio un po' più Ecco esatto Bravo bravo Rinegan bravo 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 BAM 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 Ancora uno BAM 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 Ok perfetto E i reali sono ancora Vivi eccezionale Sì ma il re va via giù subito No Sì sì No perché c'è Va giù fra tranno un volto Fa tranno un volto E quando c'è quei l'arcieri Che stanno Soccombendo alla potenza Dei cannoni Livello Nove Otto Sono all'otto Quei cannoni Perché hanno due Tra l'altro c'è un cannone al sette La E intanto sono due stelle Ma noi vogliamo un cento per cento Cioè secondo me C'è da fare No io potrei fare un cento per cento Se saltassi in aria Almeno un mastino Eh forse sì Almeno Mi sa che non salti in aria Perché sono tutte le difese Esatto Sono tutte al di terra E le uniche che due Che potrebbero spararli Sono in costruzione Per di un cibacco Per di un cibacco Perdiamo un sacco Però stanno dando un sacco di risotto Ci sono addirittura A 146 di sirnero disponibili Oh dai dai che salta Ma che salta Non gli fa niente Quella bombetta E come dire Fa il solletti Fa il mastino Però secondo me Ce la può fare 58 secondi Non ce la fa No Proviamo dai Buttiamo Buttiamo via la regina Così Eh beh Cioè ci sono più arciere Giù Magari riesco Dai dai Magari 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 sì Magari no Magari forse Forse sì Forse no Forse va a fanculo Adesso Oh esplodi No niente Non gli fanno un cazzo Gli fanno il solletico Gli fanno Dovevo tenere per adesso Gli arcieri Come per adesso Eh devo mettere adesso Gli arcieri Perché 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 quella regina è idiota E si può sparare al muro Eh Ecco vabbè Ma si sa che le truppe Non sono proprio intelligenti Là ci sono Quattro Quattro capanne del curatore Dentro Dentro il castello del clan Si capisce E non so No 99% No non ce la fa 99% Forse un 99 dai Però dai Su ragazzi Cioè No 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 Forse dai Vado per il 99 dai Ma non va giù quel castello Vado per il 99 Dai 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 Non ce la fa Dai Non mi dispiace Rina 87% Sbagli un colpo Un colpo No no Traia Vabbè Troia la regina La regina degli sca 77.000 di elisir Quante elisir che ho trovato Mamma mia Quindi ragazzi Può potenziare un reale per caso Mi sembra proprio di sì Penso che potenziare un reale più reale di tutti Eh quale Il re barbaro Mi lo faccia vedere Quanto è sto Beh allora lo potesti Tanto sta dormendo Sei giorni Vabbè sei giorni senza re barbaro Vada vada Attenzione Il re barbaro Che livello è 13 Sta andando al 13 Sta andando al 13 Quindi ragazzi Se non vi è piaciuto Cliccate 1 2 e 3 1 2 e 3 Mi piace Ciao a tutti Nel prossimo video Ti ho portato un regalo Che regalo è scusami Aspetta andate che lo prendo Perché loro pensano che il video è finito poi Eh che se ne frega To Oh It's so sweet Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille